I risultati della differenziata 2023 a Campobasso sono soddisfacenti e fanno ben sperare per il 2024 quando sarà completato il sistema di raccolta in tutta la città, centro compreso. I dati sono stati illustrati nella conferenza stampa d'inizio anno nella sede della SEA con l'assessore comunale all'ambiente Simone Cretella e l'amministratore unico Stefania Tomaro. Nel 2023 l'incremento è stato dell'8,31% rispetto all'anno precedente arrivando quindi a poco più del 52%. Un risultato ottimo se si pensa che dalla verifica del materiale una volta arrivato negli impianti risulta che i cittadini campobassani si sono comportati bene riciclando correttamente soprattutto la plastica, l'organico e la carta. Siamo soddisfatti, c'è un incremento costante della quantità e della qualità della raccolta differenziata. Il dato del 2023 si attesta al 52, quasi 53% è un dato molto alto riferito al trend di incremento delle città medie italiane quindi vuol dire che stiamo lavorando in maniera spedita e tutto ciò ovviamente depone bene in vista del raggiungimento dell'obiettivo minimo di legge che è del 65% che contiamo di raggiungere serenamente nel momento in cui andremo a eliminare tutti i cassonetti ancora residui in città e sostituirli con le ecostazioni. È una procedura in corso che purtroppo ha dei tempi amministrativi che non decidiamo noi ma comunque entro il primo semestre del 2024 il cerchio sarà sicuramente chiuso. L'impegno della SEA resta costante a tutto tondo con iniziative che oltre a toccare le scuole e i bambini si rivolgerà presto anche alle amministrazioni e agli uffici pubblici. L'informazione ai cittadini resta per la SEA l'attività principale e ha funzionato se è vero che è riuscita ad invogliare i campobassani a fare il loro dovere e a riciclare correttamente e anche se ancora ci sono comportamenti di singoli che violano le direttive comunali si può comunque dire che il messaggio sia arrivato a destinazione. Ognuno di noi si dovrebbe porre il quesito come vorrei che fosse la mia città e cosa posso fare io per migliorare la mia città. E quindi probabilmente con molta lealtà di spirito ci dovremmo rispondere che se ognuno di noi facesse una raccolta in senso civico probabilmente tanti problemi non li avremmo. Il sistema di raccolta porta a porta è proprio concepito affinché chiaramente ci sia una meticolosità nel conferimento con altrettanta meticolosità da parte del gestore nel ritiro e con altrettanta meticolosità finale nel controllo del territorio. Se io di notte vado a sversare dei rifiuti faccio fatica a pensare che ci sia un sistema di controllo H24 che possa garantire il monitoraggio di comportamenti che rasentano al di là della buona o cattiva educazione una percezione molto bassa di senso civico e di collettività. La riduzione dei rifiuti indifferenziati cioè buttare di tutto senza riciclare niente con il problema dell'impatto ambientale costituito soprattutto dalla plastica ammonta a 2.108 tonnellate in meno e questo significa meno problemi per il decoro urbano e meno costi di smaltimento in discarica. Nell'ottica di rendere servizi più comodi ai cittadini si è rivelato molto gradito ai Campobassani l'ecopunto di via Insorti di Ungheria per la raccolta degli oli vegetali esausti e dei piccoli elettrodomestici.